Volterra, una delle più importanti città d'arte della Toscana, è pronta ad accogliervi per una nuova stagione turistica. Volterra vi aspetta! 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 Una vacanza diversa, ma sta sempre la stessa, come non lo so, qualcosa mi inventerò. Scopro un posto che, che mi dipinge di azzurro, di verde e di giallo, ogni momento che trascorrerò. Arco, di rosso, di rosso, di rosso, di verde e di giallo, di tutti i colori del mondo, di tutti i colori che vuoi. Sono come te, mi piace tanto nuotare, viaggiare e scoprire posti bellissimi, ma oggi non sai. La fantasia, la fantasia, la fantasia ti può portare lontano e ti prende per mano, voli nel cielo ed un arcobaleno e tu sognerai. Arco, di rosso, di rosso, di rosso, di rosso, di rosso, di rosso e di giallo. E poi, di rosso, di rosso, di rosso, di rosso, di rosso e di rosso. Arrò come le nuvi là Arrò come le nuvi là Arrò come le nuvi là Arcovaleno Village 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti